È sicuramente il più attivo della Lazio, stiamo parlando di Mattia Zaccagni nel primo tempo, prova degli spunti personali, va vicinissimo al gol del vantaggio subito, al pronti via del match con un palo, però come dicevo in precedenza è sicuramente dei tre dell'attacco, lui, Immobile e Felipe Anderson, ma anche quando è entrato i Saxen o Castellanos, è sicuramente il più pericoloso, il più attivo. Dai suoi piedi, da una sua iniziativa, da un suo classico, scatto in profondità da una sola accelerata, nasce il gol immediato della Lazio, che è chiaramente un autogol di Giannetti, però insieme forse a Luis Alberto è uno dei pochi a salvarsi, voto 6 e mezzo per Zaccagni.